L'ingresso della Svezia nella Nato è un percorso per il via libera all'Ucraina. Ma quando vi saranno le condizioni? Il vertice Nato di Vilnius in Lituania gela le aspettative di Kiev, delusione del Presidente Ucraino Zelensky che ha definito assurdo che non ci sia un calendario per l'ingresso dell'Ucraina nell'alleanza. Prima deve finire la guerra la replica del Segretario Generale Stoltenberg. Sono ben 10 su 27 gli obiettivi della quarta rata del PNRR che l'Italia ha proposto di modificare alla Commissione Europea. Il documento è stato inviato ieri a Bruxelles. Il ministro Fitto assicura non ci sono ritardi mentre PD e 5 Stelle attaccano e invitano la Premier Meloni a riferire in Parlamento mentre Calenda propone una soluzione condivisa. Per Sinner prima semifinale di uno slam, venerdì a Wimbledon lo aspetta Djokovic. Sinner ha battuto in 4-7 il russo Safiullin guadagnando una storica prima semifinale di uno slam. Prima di lui a Wimbledon solo Pietrangeli nel 1960. I Berrettini nel 2021 erano arrivati così lontano. Merdillo aspetta in semifinale Djokovic che sul centrale di Wimbledon non perde da 10 anni. Le 7.30 buongiorno a tutti voi. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale con una notizia appena arrivata in redazione riguarda la morte di due fratellini. Una tragedia che si è consumata nelle campagne di Manfredonia in provincia di Foggia. I vigili del fuoco hanno recuperato poche ore fa i corpi dei due fratellini di 6 e 7 anni che risultavano dispersi da alcune ore. Si trovavano all'interno di un vascone per l'irrigazione. Secondo una prima ricostruzione i bambini di nazionalità romena si sarebbero allontanati nel pomeriggio dalla loro abitazione nei pressi di Contrada Fonterosa. I genitori non vedendole rientrare hanno dato l'allarme. Le ricerche si sono subito concentrate sul vascone largo 40 metri e profondo 3 metri accanto al quale sono state ritrovate le ciabattine dei due bambini. La scarsa illuminazione della zona ha reso complicate le ricerche dei sommostratori dei vigili del fuoco che con l'aiuto di fotocellule hanno ispezionato il bacino e ritrovato i corpi senza vita. Non è chiaro se siano scivolati o siano entrati volontariamente nell'acqua. E questa era la zona della Puglia. Naturalmente vi daremo conto dei particolari di questa tragedia. Adesso cambiamo argomento, andiamo a Vilnius in Lituania dove si tiene questo importante vertice della Nato. Il segretario Stoltenberg ha confermato che l'Ucraina potrà entrare nell'alleanza atlantica ma quando ci saranno le condizioni. Parole però che non sono piaciute al presidente ucraino Zelensky perché ha detto assurdo che non ci sia una calendarizzazione. Allora vediamo il servizio. Si conclude con una girandola di bilaterali la seconda giornata del vertice Nato a Vilnius in Lituania. Protagonista assoluto volò di Mirzielensky che vedrà tra poco Joe Biden, Jens Stoltenberg e Charles Michel per poi partecipare al lancio del Consiglio Nato Ucraina. Un summit che ha sancito di fatto l'ingresso della Svezia nell'alleanza atlantica e definito un percorso per il via libera all'Ucraina. Un paese è scritto nelle prime conclusioni che ha la Nato nel suo futuro. Prima però deve finire la guerra con la riconquista della più ampia porzione possibile di territorio. Gli alleati sono d'accordo sul fatto che l'Ucraina sarà invitata ad entrare quando ce ne saranno le condizioni. Ma se Stoltenberg parla del messaggio più forte mai mandato all'Ucraina, Zelensky si è detto deluso. È assurdo che non ci sia un calendario, ha detto non appena sbarcato a Vilnius, dove ha improvvisato un commizio davanti a migliaia di persone. La Nato renderà l'Ucraina più sicura e l'Ucraina renderà la Nato più forte, assicura il presidente. Ben diversa la situazione della Svezia, per cui il via libera degli alleati all'ingresso è stato stabilito di concerto, ancora prima del vertice tra Biden e Erdogan, per il quale è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo tra Stati Uniti e Turchia. Un capitolo che si inaugura con lo sblocco da parte di Washington della vendita ad Ankara di 40 aerei da guerra F-16 attesi da anni. Alla Nato verrà creato un coordinatore speciale per la lotta contro il terrorismo, così come chiesto da Ankara, che per togliere il veto contro la Svezia aveva finora preteso la consegna da parte di Stoccolma di diversi rifugiati kurdi accusati di terrorismo. A giorni sarà il Parlamento turco a ratificare il sì a Stoccolma. Per Giorgia Meloni si è trattato della prima partecipazione del primo discorso dopo aver incontrato faccia a faccia il premier britannico Sunak e il presidente turco Erdogan. I due leader si sono confermati strategie comuni in materia economica e di lotta all'immigrazione clandestina. Allora, così il vertice di Vilnius in Lituania, vi ricordo, proseguono anche oggi i lavori. Intanto però proseguono anche i combattimenti sul campo. In Ucraina ci sono stati nuovi bombardamenti, nuovi attacchi da parte della Russia, con i droni ancora una volta e ancora una volta sul cielo della capitale Kiev. Tutti i droni della Russia sono stati abbattuti. Intanto ci sono in arrivo probabilmente nuovi missili a lunga gittata da parte della Casa Bianca. Ieri ha dato la via libera anche la Francia a fornire nuove armi. Ma facciamo il punto nel servizio. L'impegno a sostenere l'Ucraina, rinnovato dagli Stati Uniti al vertice nato di Vilnius, potrebbe concretizzarsi nella fornitura di missili ATACMS. Il New York Times scrive che Washington ne sta valutando l'invio perché questi missili dal raggio d'azione di 300 chilometri consentirebbero di colpire dietro le linee russe. Già la Gran Bretagna con gli Storm Shadow a maggio e la Francia con gli Scalp promessi in queste ore in Lituania hanno concesso missili tattici a lungo raggio a Kiev. Gli Stati Uniti sono resti ad alzare il livello delle forniture militari all'Ucraina. Vedi l'invio di caccia F-16 nel timore che vengano usate contro la Russia in un'escalation della guerra. E di ATACMS, che sta per Army Tactical Missile System, ne hanno già pochi. Ma le forze ucraine sono a corto di munizioni di artiglieria. Il presidente Zalewski aveva chiesto di più. I nuovi missili, così come le contestate bombe a grappolo, consentirebbero all'Ucraina di continuare a combattere. Per la seconda notte consecutiva la Russia ha lanciato su Kiev vidroni kamikaze iraniani, tutti abbattuti secondo la difesa ucraina, che riferisce anche di combattimenti duri ad est, intorno a Bakhmut, e di pesanti bombardamenti a sud, nell'area di Sumi. L'Ucraina ha perso 26.000 soldati da giugno dall'inizio della controoffensiva, ha detto in un'intervista il ministro della difesa russo Shoigu. Ha anche smentito l'uso di bombe a grappolo, ma di essere pronto a usarle se lo facesse l'Ucraina. I numeri delle perdite sono secretati in Ucraina e in Russia. Una stima ieri di un'università tedesca e di due medi indipendenti russi ha indicato tra le 40 e le 55.000 perdite, almeno tra i russi, dall'inizio dell'invasione. Cambiamo argomento, parliamo di PNRR, se ne sta parlando in questi giorni. Da Bruxelles confermano alcune fonti che dal governo italiano sarebbero state avanzate alcune proposte di revisione relative ad alcuni progetti, soprattutto finalizzati alla richiesta, all'erogazione della quarta rata del piano. Per blindare la quarta rata da 16 miliardi, 10 punti su 27 sono stati ritoccati, ma i tardi sul PNRR sono solo immaginari, dice il ministro per gli affari europei Fitto. Nonostante il gestore della trattativa con Bruxelles ostenti serenità, qualche intoppo però c'è stato sull'erogazione della terza rata, quella da 19 miliardi. Ieri lo ha ammesso anche il ministro Giorgetti, ma nessun giallo, ripete Fitto. Semplice cambio in corsa, preventivato, è fase più difficile rispetto alla prima. All'inizio si chiedeva all'Italia di concentrarsi sulle riforme, più che sulla messa a terra dei progetti. Oggi si tratta di portare a termine i cantieri e il punto centrale resta il come si spenderanno gli aiuti promessi, quali sono nei tempi e quali possono rientrare nel piano. Insomma, un nuovo metodo di lavoro. Confermiamo di aver ricevuto la proposta di revisione mirata del piano dell'Italia relativa a dieci misure nell'ambito della quarta richiesta di pagamento, dichiara una portavoce della Commissione europea. Effettueremo le nostre analisi e riserveremo ogni commento sulle misure a valutazione completata. Alcuni passaggi restano però in chiaroscuro e lo stesso Fitto ammette che sui tempi dell'erogazione della quarta rata nessuno può dare garanzie. Le correzioni fin qui messe nero su bianco riguardano progetti sull'idrogeno colonnine elettriche, asili nido, satelliti, il piano Cinecittà e le ferrovie. Dal PD si invoca a gran voce un'operazione verità in Parlamento. Fitto riferirà in aula probabilmente il prossimo 18 luglio. Ma il Ministro ha assicurato che l'intera quarta rata, quella da 16 miliardi, l'Italia la chiederà, non immaginando alcuna forma di definanziamento. Tutto accadrà nel rispetto della scadenza del 31 agosto per la revisione complessiva del piano. Dal terzo polo azione si dice pronta a collaborare. Calenda denuncia un drammatico ritardo, chiedendo a Meloni e Schlein di cercare insieme una soluzione condivisa. Il clima avvelenato dai casi giudiziari rende però tutto più complicato, anche sul PNRR, con Schlein che invita la Premier ad assumersi le sue responsabilità in aula. Lo stesso fanno i 5 Stelle, con Patuanelli che denuncia un caos assoluto. La maggioranza ostenta invece ottimismo, rispedendo al mittente ogni polemica. Siamo in linea con l'UE, insiste Fitto. Nessuno scontro dunque, ma una mediazione condivisa con Bruxelles, tra scremature e nuovi progetti. E in attesa del via libera da parte dei tecnici del Quirinale e quindi il successivo passaggio in Parlamento, il disegno di legge sulla riforma della giustizia continua a essere uno dei temi principali più caldi del confronto politico. Vediamo perché. Se fino a domenica l'idea nella maggioranza era di tener duro senza cedimenti nello scontro sulla giustizia, dopo le ultime rivelazioni sull'inchiesta che coinvolge Daniela Santanchè, più di qualcuno nell'area di governo inizia a pensare che, se per la Ministra del Turismo dovesse arrivare un rinvio a giudizio, Giorgia Meloni non potrebbe più evitare di chiederle il passo indietro. La Premier intanto prende tempo e lima i contorni dell'intervento chiarificatore che ha promesso a suo rientro dalla Lituania. Nel governo è il ministro Ciriani che tenta di spegnere i riflettori sui casi che imbarazzano la maggioranza. Non possiamo passare l'estate a parlare di giustizia, dice il titolare dei rapporti con il Parlamento, ma l'opposizione non è dello stesso avviso e cavalca a più riprese i casi che riguardano Santanchè e del Mastro e sfiorano il presidente del Senato, la russa. La maggioranza è nel caos, attacca dal PD il capogruppo in Senato Boccia, sottolineando che ieri i membri dem della Commissione Giustizia sono usciti dall'aula per protesta, quando del Mastro, che non si è mai scusato sul caso cospite, è arrivato a Palazzo Madama. Stesso refrain dal Movimento 5 Stelle che invoca in coro le dimissioni immediate della Santanchè, con il capogruppo in Senato Patonelli impressi in costante sulla calendarizzazione della mozione di sfiducia individuale presentata dai grillini nei confronti della Ministra. Intanto, a giorni, arriverà l'ok del presidente Mattarella al DDL Nordio, una firma che il capo dello Stato apporrà alla riforma, magari esercitando la moral suasion, rispetto ai punti che potrebbero esporre l'Italia ad attriti con Bruxelles, l'abrogazione dell'abuso d'ufficio e le modifiche al traffico di influenze. E adesso l'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Ieri nella conferenza stampa della famiglia sono state respinte le ipotesi di un coinvolgimento dello zio della ragazza. Vediamo. Una conferenza stampa per attaccare chi non vorrebbe la verità e per difendere la figura dello zio paterno, balzata in primo piano con il servizio del Tg La7, che ha raccontato dei suoi approcci nei confronti della nipote Natalina, la quale minimizza i comportamenti di Mario Meneguzzi. Lavoravamo insieme alla Camera, dice la sorella di Emanuela Orlandi. Era il 78, mi fece delle semplici avance verbali, qualche piccolo regalo. Il tutto durò al massimo un mese e quando capì che la cosa non era possibile, quando il mio fidanzato di allora gli fece intendere che era al corrente di tutto, si tirò indietro. Per Natalina Orlandi non è sconveniente che uno zio di 50 anni importuni la nipote di 21. Si trattò di uno scivolone, un colpo di caldo estivo, tutto finì nel dimenticatoio e sicuramente lo zio Mario mai si comportò allo stesso modo con Emanuela. Pietro Orlandi ritiene che il confessore della famiglia, un sacerdote sudamericano che all'inizio degli anni 80 Giovanni Paolo II aveva inviato nell'annunziatura apostolica di Bogotà mai avrebbe dovuto rivelare le confidenze di Natalina e spiega di aver provato fastidio nel vedere l'accostamento tra la foto dello zio e l'identikit dell'uomo che la sera del 22 giugno fu notato da un vigile e un poliziotto mentre parlava con Emanuela vicino al Senato. È stata una carognata, commenta Orlandi, non potevano scendere così in basso. Le accuse sono rivolte agli investigatori della Santa Sede e a quelli della Procura di Roma che inserendo anche la pista familiare tra quelle percorribili oltre a infangare Meneguzzi morto 14 anni fa si starebbero allontanando dalla direzione giusta. L'unica soluzione a questo punto è che si arrivi presto alla Costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta. Deve partire, dice Pietro Orlandi, non perché c'è una famiglia che soffre ma perché potrà arrivare dove Vaticano e Procura di Roma non vogliono o non possono arrivare. Attualmente ricoverata in un reparto psichiatrico ma verrà interrogata nei prossimi giorni la donna che al volante della sua auto ha investito e ucciso tre persone nel bellunese esclusa la pista della volontarietà resta però quella di un eccesso di ira incontrollata. Vediamo. Un'ipotesi suggestiva ma di pura astrazione la definisce così il procuratore capo di Belluno Paolo Luca la possibilità che Angelica Utter abbia volontariamente falciato e ucciso a bordo della sua Audi tre persone lo scorso giovedì a Santo Stefano di Cadore. La 32enne tedesca ad alcuni giorni è stata trasferita dal carcere veneziano della Giudecca in una struttura che si occupa di disturbi psichiatrici e accusata di omicidio stradale per la morte di Mattia Antoniello nei meno due anni di suo padre Marco e della nonna del piccolo Maria Grazia Zuin. Ma se non è stato come sembra un gesto volontario cosa è successo allora a Santo Stefano di Cadore? Il magistrato ieri in conferenza stampa ha messo dei punti fermi si sa e dai video delle telecamere di sorveglianza di un'officina non distante dal luogo dell'incidente che Angelica Utter andava ben oltre i limiti di velocità ma non aveva assunto alcol e nemmeno droghe e inoltre dei primi esami non era nemmeno al telefono cellulare l'ipotesi più probabile ha detto De Luca è che la donna fosse in uno stato di ira ma non sappiamo da cosa dipenda parole che coincidono con quanto riferito da un testimone che l'avrebbe vista lanciare in aria una bottiglia prima di mettersi al volante nei giorni precedenti alla tragedia era stata denunciata perché dopo una lite era stata trovata in possesso di un martello da settimane ha lasciato la sua abitazione di Degendorf in Baviera e viveva nella sua automobile dove sono stati trovati viveri e coperte entro cinque giorni dovrà essere interrogata da Jeep e potrà fornire la sua versione e chiudiamo con lo sport con il tennis e con la storica qualificazione di Yannick Sinner alla semifinale di Wimbledon e il terzo azzurro dopo Pietrangeli e Berrettini a conquistarla nel leggendario torneo londinese vediamo Dopodomani in semifinale sarà Djokovic contro Sinner uno scontro di generazioni con il serbo ieri vittoriosa in rimonta sullo rusto Rublyov che per la dodicesima volta entra fra i primi quattro a Wimbledon saranno quindi preziose ore di riposo per l'azzurro che per scrivere un'altra pagina indelebile dovrà fare ricorso a tutte le sue energie mentali e fisiche quelle energie che ieri sembravano dissolte nella fase centrale del secondo set quando il giocatore italiano era caduto nella trappola di Safiulim un russo al debut a Wimbledon e rivelazione del torneo 2023 in grado di scalare quasi 50 posizioni della classifica mondiale Yannick ha attraversato momenti di autentico blackout alimentando preoccupazioni nel suo staff e tra i tifosi italiani nei tornei dello Slam è il decimo italiano ad essere entrato fra i primi quattro può essere davvero la svolta della carriera che sinora è andata avanti senza quell'exploat di livello assoluto in grado di consacrarlo in maniera definitiva è stata comunque la dimostrazione dei grandi progressi fatti nel gioco sull'erba molto diverso rispetto a quello delle superfici veloci ma il vero salto di qualità a quello decisivo deve arrivare adesso sotto l'aspetto della concentrazione della cattiveria agonistica dodiche potrebbero risultare decisive contro un campione del calibro di Djokovic lo scorso anno proprio sul centrale londinese ribaltò il quarto di finale con l'alto a tesino recuperando due set di svantaggio e allora tutti quanti sosteniamo naturalmente Sinner allora adesso ci sono gli aggiornamenti sulla viabilità autostradale poi torna come sempre Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo e poi c'è Flavia Fratello che conduce il dibattito e a seguire come sempre Andrea Pancani che conduce Coffee Break adesso la linea la diamo a diletta Innocenti Fagni e noi se volete ci vediamo domani grazie, una buona giornata Grazie a tutti